ciao a tutti bentornati in un nuovo video oggi faremo insieme i bomboloni fritti o i craffen fritti si possono fare anche al forno e sono davvero sofficissimi e pur essendo fritti sono davvero molto leggeri perché li andremo appunto a far lievitare molto bene e poi a friggere nella maniera giusta allora prendiamo la planetaria dove ci andremo a mettere all'interno il latte che deve essere a temperatura ambiente insieme al lievito fresco anche questo a temperatura ambiente lo sciogliamo poi ci aggiungiamo tutto il resto degli ingredienti quindi lo zucchero le due farine le uova tranne il burro e gli aromi ovviamente tutte le dosi le trovate scritte giù nell'info box quando l'impasto sarà liscio ed omogeneo quindi all'incirca ci vorranno 10 15 minuti possiamo andare ad aggiungere il burro anche questa temperatura ambiente non deve essere completamente fuso mi raccomando e quando l'impasto avrà assorbito tutto il burro quindi sarà ritornato bello liscio e asciutto possiamo iniziare a lavorarlo un pochettino con le mani cerco di arrotolare l'impasto su se stesso e quando sento che l'impasto non è più appiccicoso e toccandolo l'ombra del mio dito torna su allora vuol dire che l'impasto è pronto questo lo mettiamo in un contenitore senza olio senza farina assolutamente nulla però coperto con pellicola trasparente e una coperta e lo lasciamo lievitare per circa 4 ore o nel forno con luce accesa ovviamente forno spento con luce accesa oppure lo mettete vicino non attaccato ma vicino ad un calorifero quindi ci deve essere all'incirca una temperatura di 30 gradi quando avrà raddoppiato di volume lo mettiamo sul nostro piano di lavoro leggermente infarinato e lo iniziamo a stendere con un mattarello a questo punto ricaviamo dei cerchi con un coppapasta e lasciamo lievitare i nostri bomboloni altre due ore sempre nel forno spento con luce accesa con la pellicola la pellicola non deve essere a contatto altrimenti va a schiacciare i bomboloni quando lievitano quindi cercate di creare una sorta di cupola infatti i miei sono venuti un pochettino schiacciati quindi la prossima volta mi raccomando create una cupola allora quando avranno lievitato mettete l'olio io utilizzo olio di arachidi e lo faccio arrivare a temperatura circa 160 gradi perché l'olio non deve essere troppo caldo altrimenti li brucia subito invece si devono cuocere anche bene all'interno quando arriva a 160 li vado a mettere nell'olio caldo due minuti per lato se li volete con lo zucchero attaccato quando li togliete dall'olio passateli direttamente nello zucchero semolato altrimenti li lasciate asciugare poi li potete passare con lo zucchero a velo io li ho fatti entrambi sia con lo zucchero semolato che con lo zucchero a velo quando saranno belli freddi potete farcirli con la crema io utilizzo la mia crema pasticcera di cui ho fatto il video quindi se volete riprodurla vi lascio qui il link per poterla vedere cliccate sulla i a destra ed ecco qui i nostri bomboloni come vi dicevo si possono anche fare al forno a 180 gradi per circa 20 25 minuti allora spero tanto che questo video vi sia piaciuto come sempre io aspetto i vostri commenti fatemi sapere se provate a farli sono davvero molto semplici e vi assicuro che sono golosissimi io vi mando un bacio e ci vediamo presto in un prossimo video ciao